Accende il Parco dei Principi, al momento l'ingresso è in campo delle due squadre. A partecipare il Palmo di Pappé è stato capitato, per la prima volta di Pappé. Per la prima volta di Pappé, al momento l'ingresso è stato capitato, per la prima volta di Pappé. Questo è il momento in più che vengono finire la campagna di Norviglietti. Ci sono già 7 gli assist di Neymar. C'è un bel gol, forte per Pape. bella giocata a Trever and a fine save from close range tapped out by Ramos back in but wide this time for Filip Kostic and that's exactly what we're going to do that's why the two sent the floor to their threat what a good header that one now they can use it offside easy goal played and now Messi that's for sure into Mbappe little lay I'll take it back to Mbappe that's sublime that's 2-0 wonderful goal Ramos with the free kick Messi is messy position he loves that Betinha with the strike there he falls over and then he goes into the goalkeeper I'm not sure what the goalkeeper could do other than that he did have a hand on him it's based on Mbappe up to the gears and leave Mbappe behind there a little cut went rather sour Messi back to Mbappe Messi he's got 60 65th European game move he's been excellent the left back Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti